Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxigamer88 Episodio 11 di Horizon Zero Dawn E in questo episodio volevo affrontare la quest secondaria Trovare il vecchio Capoguerra Che era andato a cercare gli assassini La banda di assalitori occultisti Per dirsi voglia E che ci aveva assaltato Allora sto utilizzando sempre la mia combinazione joypad E come si chiama E tastiera mouse Quindi dobbiamo andare qui sopra Raggiungi il luogo del massacro Il problema qual è? Che per arrivare qui ci sono delle zone da esplorare Però visto che voglio fare soltanto la missione secondaria Faremo Una vita intera Passata nell'abbraccio Ora il mondo è più grande E anche più pericoloso Posso parlare? Grazie Il salvataggio lo abbiamo già fatto Quindi partiamo Raccogliamo un po' di tutto Abbiamo preso veramente ottime abilità Anzi controlliamo le abilità Ci sono punti Sì abbiamo due punti da spendere I colpi critici Ok Colpo in distesa No Allora queste per ora non le prendo Ehm Volevo provare Queste due le voglio prendere Diciamo adesso voglio Improntare a lui Più sull'attacco Sia chiaro Quindi Mettiamo la missione secondaria Già messa Ok Sono 550 metri Quindi all'inizio proseguirò Con L'obiettivo Principale Nel senso andare a fare la missione secondaria E basta Poi Qui ci sono anche altri punti Quindi per ora Schippiamo Un po' di punti Però lì c'è qualcuno Non so se è un nemico O un amico Ehm Prendiamola questa Lo posso farla dopo Beh Questa è una cosa da Ok Lì c'è un nemico Dobbiamo nasconderci 490 metri Beh Sembrano Tanti E lo sono Lo accattiamo Il sosto non ci serve Sub via dai Tiriamo dritto Prendiamo Veramente di tutto Io ho tolto le ombre Mi danno veramente fastidio Ho lasciato alcune cose al massimo Ma per il resto Ho tolto le Veramente L'essenziale Proseguiamo Voglio fare un episodio Abbastanza Calmo Tranquillo Completare la missione Secondaria E poi fermarci Ritornare indietro E esplorare tutto Proseguiremo La missione principale Non appena Ehm Bene Posso usarla Intanto raccattiamo tutto Ci servono Ragazzi Anzi Ripariamo anche le Dobbiamo comprare Anche un arco nuovo E ci sono Alcune cose da fare L'arco nuovo lo compreremo Quando prenderò Ok Non è molto distante Sì però ci sono un bel po' di rovine Io raccatto tutto Con molta calma A differenza di The Forest Si è chiaro Questa è una serie Improntata Ehm Molto di più Sull'esplorazione totale Del gioco Missioni E cose varie The Forest è molto Improvvisazione Si è chiaro Qui Non è che non improvviso Però riesco a programmare meglio Ciò che devo fare Per esempio Mi sono detto Quest'episodio Voglio fare La missione secondaria Quindi Perché non farla Non raccattiamo tutto I rallentamenti Ragazzi Non ci possono fare nulla Abbiamo preso Veramente di tutto Hai scoperto Falò Dov'è? Più avanti Ottimo Ottimo Vieni qui Carissimo Falò Ci servi La missione Qui non è Sparita Ottimo Ci dice che non c'è Una nuova missione Quella è un mercante? Si Ehm Salvataggio Vediamo Manuale Faccio Non posso fare Un nuovo Salvataggio Partiamo dall'inizio Un dono dal passato Salvo qui E seguo Uno schema Ben preciso Vediamo cosa ci dà Questo mercante Arco di precisione Carge La peppa Bellissimo Da prendere Può utilizzare tre tipi di munizioni Arco di precisione Ok Voglio prendere questo Puoi scambiare Arco di precisione Per 10 ar di metallo E 210 frammenti Adesso per i frammenti Andiamo a vendere qualcosa Quindi Risorse Vediamo cosa possiamo vendere Lente di spazzino Ok Uno Due Vendiamo questo Sto cominciando a vendere Alcune cose Posso vendere Più unità G F Ok Possiamo comprarlo Vendiamo anche questi Liberemo un po' di spazio G F Ok Sto cominciando adesso A entrare nell'ottica Del gioco Quindi acquistiamo Subito Il nostro arco di precisione Carge Lo sostituiamo con questo Acquista Usa Ehm Per ora Mettiamolo qui Ora Per le modifiche Io posso togliere le modifiche Che avevo fatto prima Creazioni Creazioni Modificarmi Usa modifica Ma posso sostituirla Ehm Cioè Lacerazione Vabbè Proviamo a sostituire Cioè Se io cambio Queste sono non comune Prendiamo questa Mi verrà ridata L'altra Perché è una cosa importante Da vedere No posso utilizzare Questa Vabbè Mettiamola Non sono disponibili Modifiche per quest'arma Va bene Quindi Inventario Armi Mmm R rimuovi Cosa significa Poi Usa Perfetto Ok Abbiamo il nostro Nuovo arco Vediamo invece Se ci sono Abiti Questa costa Mille E Richiede un cuore Di Arcapode O arcapode Questo ce l'abbiamo Perfetto Il Questo è ottimo Perché ci dà Molto raro Sopravvissuta Nora pesante Ed è bellissimo Anche questo è molto bello Però al di là Dell'estetica Una carrozza Lodacenoro Rinforzata Per la testa Dello squadrone Il pettorale In metallo Protegge Dagli attacchi In mischia Abbiamo Le vampe Ce le abbiamo Però ce ne servono 40 E cuore di vedetta E 900 frammenti Di metallo Questo di qui Lo voglio Quindi Sarà il nostro Prostimo Acquisto Quindi ci servono Vedette Ci serve Un po' di tutto Salviamo Con un salvataggio Rapido E partiamo Guardate che bello Sto arco Un terreno Di caccia Salvataggio Rapido E io devo dire Che Però con C'è un'altra Missione Ci sono tantissime Missioni Non ti preoccupare Non voglio nemmeno Ispezionare i cadaveri Il mio focus Rileva un'altra Specie di segnale Per ora Andiamo avanti Poi ritorneremo Indietro Ci sono altre Rovine Zona dei corsieri Qui c'è tutta Un'altra zona Non sapete Per raggiungere Il lungo Del massacro Vediamo Allora Quest'arco Fa Paura E fa Male Questa è la cosa Che mi interessa E' un po' più lento Però Ok già Che il focus Ci indica Che c'è un oggetto Non comune Tipo lente Vai a lui Fagli vedere Chi cazzo sei Ecco Lì ci sono Le vedette Però il nostro obiettivo C'è cavi Cioè non sono frecce comuni Vabbè Però allora L'altro archetto Lo usiamo Per i nemici Un po' più scarsi Modifica Usiamo questo Ok Inventario Armi Mi comincio ad abituare F Lo mettiamo qui Come faccio a cambiare La mia arma Ok Con il tasto del mouse Veracezziamo un pochettino Stiamo per arrivare Vabbè i cavi ce li danno Perciò non è Che abbiamo problemi con i cavi Si è chiaro Ascensa dalla madre Siamo quasi arrivati Si ma Ci siamo fatti notare Ma in compenso L'abbiamo buttato a terra Allora però Sto utilizzando il mouse E la peppa Ah ma un bagliore Accecante Niente di che Pensavo peggio Cioè era tutto fumo E niente arrosto Ok andiamo avanti Siamo quasi arrivati L'accattiamo tutto Ok riprendiamo L'accattiamo un po' di cose Siamo quasi arrivati Su via Abbiamo un arco Bello tosto Possiamo fare frecce di precisione Queste sono quelle che ci servono Frecce incendiare a cargia Frecce da caccia Deve essere qui Che hanno massacrato Lo squadrone Intanto prendiamo un po' di Erba Di dramoscelli Ci servono Ok qui c'è sangue Prendiamo il focus Dirigiamoci al nostro obiettivo E vediamo cosa succede Ispezione nel campo di battaglia Perfetto Parecchie macchine Tutte controllate dagli assassini Vediamo cosa Riusciamo a scoprire Ora sono riusciti ad abbattere un corruttore Però non troviamo niente A parte Vedette Corrotte Avanzi di cibo Gli assassini si sono accampati Forse il capoguerra Ha lasciato qualcosa Magari un indizio Sui suoi spostamenti Vediamo Esamen Ma non prima che gli assassini Lo usassero Per mandargli contro altre macchine Ok Guarda questo posto Ecco mi ha detto Var Lascio parlare a Loi In questo preciso momento Hanno lanciato una mandria Impazzita giù dal pendeo Cos'è tipo il re leone Un bagno di sangue a stomaco pieno Mostri E quindi Parla con il sopravvissuto Che si trova Qui vicino Ecco lì ci vedo dei nemici Facciamo attenzione Cerchiamo di eliminarli Dalla distanza Ah no Non c'è bisogno Non sono così Distanti Tipo sta vedetta Sì invece Le vedette rompono le scatole Quindi le elimino subito È la vostra fine Tanto non ci beccano Cioè avete visto che colpo da maestro Ok E le altre macchine Le altre macchine le lascio stare Non mi servono Mi vorrei capire dove sto sopravvissuto Dice c'è un sopravvissuto Dove? Eccolo qui Vediamo cosa ci dice Lo prendiamo alle spalle Dranne 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 santi Dio Infatti Minchia faccia Morti e feriti sono sistemati Ci sono altri audaci O guaritori Solo io Sei ferito Che è successo? Di tutto La fuori è il caos Il capoguerra mi ha mandato Per fare rapporto Così non le sono utile Sono attrovato gli assassini Varla ha detto che il capoguerra Ha rintracciato gli assassini Li ha trovati Abbiamo seguito le tracce Ma continuavano a mandarci addosso Macchine corrotte Le mie ferite Mi hanno rallentato Così il capoguerra Mi ha mandato indietro Per riferire che non si arrende L'imboscata Eri qui quando lo squadrone È stato aggredito Esatto Non immaginavo giorno più cupo Dopo la prova Ma mi sbagliavo Il capoguerra ha perso tempo Con le retroguardie Assettati di vendetta I primi audaci Sono caduti in trappola Ne sono morti subito a decine Se Sona non fosse arrivata a guidarci Saremmo tutti morti Dove sono? Varla mi ha mandato a cercare Sona Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi? Alla torre di metallo A sud est delle rovine di sete del demone Guarda l'altura dietro Quella col maccigno Io andrò all'abbraccio E dirò quello che so A Varla e agli altri Che la madre ti dia forza Ti servirà Da sola Perfetto Vediamo se è fattibile Altrimenti È la peppa No no Allora ragazzi Qui abbiamo un problema Abbiamo Questa missione Che voglio portare avanti Ma prima di tutto Vorrevo esplorare Qualsie Qualche altra zona Per esempio Qui ci sono rovine Qui c'è un villaggio Con missioni Zone dei corsieri Quindi cosa facciamo adesso Andiamo a caccia di qualche macchina E poi Ci salutiamo Ritorniamo al falò Anzi Ritorniamo al falò Perché Questa cosa è importante Nel prossimo episodio Stopperemo Le missioni Faremo esplorazione Per poi Riprendere Dobbiamo ritornare qui A meno che qui non ci sia un falò Qui vicino Ed è qui sopra C'è questo O questo falò Allora facciamo Andiamo qui Il falò Il falò Dove sei? Eccolo A 164 Salviamo Questo nuovo falò Perché il nostro obiettivo Adesso qual è? Salvare Ed esplorare Non voglio Fare Vi ripeto Un gameplay Di fretta Non mi piace Non mi piace Del tipo Ok facciamo la missione veloce Schippiamo L'esplorazione E una di queste Cioè Sarebbe troppo Mainstream Questo canale Io Ho sempre Dato la priorità All'esplorazione Ora prima Qui c'è il falò Ottimo Cosa facciamo Lo sblocchiamo Con un salvataggio Rapido Andiamo a fare Un po' di caccia Su questi nuovi nemici E poi ci salutiamo Farò quello che Farò quello che Nascondiamoci Cazzo Cazzo Qui ci sono Macchine Belle potenti Quindi Il problema Qual è? Non è tanto Che uno dice Vabbè Affrontiamo Il nemico E ce ne usciamo Facile Facile Qui C'è da sudare Per esempio Lì c'era una macchina E noi ci siamo Buggati Dai Dai Aloy Curati Non sei curata Come lo diciamo io Dai Santi Dio Butta a terra Sto pezzo di me Eliminato Allora Molto difficile Vabbè Sto giocando ancora Col mouse Anche se Ho impostato Il joypad Curati Ho un problema Con il tasto Q Del mio joy E della mia tastiera Perché Non è che è guasto Si è chiaro È impostato In una maniera Personalizzata Ok Eliminiamo Qualc'altra macchina Dai Una freccia Ciao Ce la stiamo Caviccando Però voglio abituarmi Un pochettino Col mouse E tastiera Ok Rallentare il tempo Aiuta tantissimo Mi permette Veramente Di fare Di più Non è un pochettino Non è un pochettino Non è un pochettino Non è un pochettino E eliminare alcune macchine Senza paura Ho il tacchino Dove Riccattiamo un pochettino Vi ho fatto vedere Come caccio alcune nuove macchine Senza Troppe difficoltà Ci sono alcune macchine Un po' più pericolose Altre Meno Perfetto ragazzi Come bisogna Oh Preso Fra poco Saremo a livello 10 Ottimo Quindi direi Di salutarci qui Nel prossimo episodio Andremo a fare Proseguiamo Con queste secondarie Poi Andremo A esplorare Quindi faremo esplorazione Un po' di tutto Per ora Non voglio appesantire Troppo l'episodio Quindi salvataggio rapido Salvataggio manuale Il primo di tutti Quindi ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Ascate like Commentate Condividete E noi ci vediamo Che al prossimo episodio Di Horizon Zero Dawn Alla prossima